all'inizio della guerra i camion un camion tir con 2.000 2.500 euro sapendo che erano aiuti umanitari si riusciva a portare qua che comunque erano soldi però su un volume di un camion di un tir di 30 bancali ci stavano 20 tonnellate di cibo ci stavano adesso 5.000 5.700 si arriva anche a 6.000 euro fa spiace un po sinceramente di pensare che comunque i 6.000 euro del camion solamente usa una parola buttati nel trasporto ma con 6.000 euro ai prezzi ucraini senza dover andare a comprare merce di prima scelta quando si ha fame si compra il prezzo più basso che si trova sul mercato comunque 6.000 euro si può andare avanti un mese e mezzo per varie associazioni dice che spera ogni giorno come io lo spero e mia moglie che tutto finisca da un momento all'altro e poter vivere la vita normale poter andare al lavoro normalmente poter andare anche in vacanza lei ha detto questo non avendo non avendo quella sensazione di colpa che gli altri stanno soffrendo e tu invece vai in vacanza questa è una cosa che sento anch'io nonostante non sono ucraino ma ormai ce l'ho nel sangue nel cuore soprattutto mi viene difficile pensare infatti ne parlavamo giusto ieri e ci piacerebbe andare in vacanza sì ma non ce la sentiamo e anche solo andare al ristorante poi magari si legge di qualche ragazzo di qualche che sia soldato perché comunque sono sempre persone anche loro e sia qualche civile che sono morti ci si sente colpevoli io aggiungo questo che lei non ha detto io questa sensazione ogni volta che praticamente ogni giorno ogni volta che vengo in un centro andiamo in un ristorante a mangiare bene e poi vengo qua c'è la gente che fa la fila sembra di stare veramente in guerra come la prima guerra mondiale come raccontavano i nonni la fila per il pane la fila per il sacchetto sono cose che non pensavo di viverla veramente non pensavo fossero ricordi dei nonni e volte volte la stai vivendo e dice ma noi siamo in guerra forse l'abituarsi ci si abita anche qua però si cerca sempre di evadere non pensare di essere in guerra perché sono veramente difficile però quando si notano i contrasti il ristorante buono e gli altri sono qua a fare la fila è pesante pesante ci noi ci sentiamo a fare la fila è pesante a fare la fila è pesante